La Sopraintendenza Archeologica, Bellearti e Paisaggio di Salerno e Avellino ha approvato il piano delle indagini proposto dal Comune di Capaccio relativo al progetto Mobilità Turistica, sistema della sosta, viabilità e sottopasso ferroviario alla stazione di Pestum. Nelle scorse settimane la Giunta Comunale guidata dal Sindaco Italo Bozza ha preso atto ed approvato il nuovo piano delle indagini necessario alla verifica dell'interesse archeologico per l'approvazione definitiva del progetto. Una relazione di fondamentale importanza da trasmettere alla Sopraintendenza per l'ottenimento del relativo parere che non si è fatto attendere. La Sopraintendente, architetto Francesca Casole, ha considerato infatti il piano delle indagini proposto conforme alla modalità di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Il nuovo piano delle indagini prevede una riduzione sostanziale dei costi che ammontano a 326 mila euro, di cui 160 mila circa per l'esecuzione degli scavi e 50 mila euro per rilievi di un geologo, di un architetto e di un archeologo, con relative indagini geoelettriche e geomagnetiche. Il progetto Mobilità Turistica, sistema della sosta, viabilità e sottopasso ferroviario alla stazione di Pestum, ammonta complessivi 11,5 milioni di euro.